La Torrese, fortissima in trasferta, meno in casa, vuole trovare continuità anche fra le muramiche. Ci prova contro il Ponte Vovano, che invece negli ultimi due impegni esterni ha conquistato i primi quattro punti lontano da Ruggeri. Prima occasione degna di nota per i padroni di casa, al quarto minuto, con Gentile che penetra in aria ma calcia alto. All'undicesimo arriva la replica ospite con Polisena, che dalla sinistra si accentra e conclude nello specchio della porta, ma trova l'opposizione di Abate. Al quarto d'ora padroni di casa in vantaggio, calcio d'angolo di Mastrilli e deviazione vincente di testa di Mbop, che trova la prima rete in campionato. Si gioca a ritmi altissimi, con ripartenze continue dall'una e dall'altra parte. Buon per il pubblico che si diverte. Al ventinovesimo Mosca va a un passo dal 2-0, con un lob diretto verso il secondo palo che sfiora la traversa. Al trentaseiesimo Mastrilli stoppa una palla nei pressi della linea di fondo. Salta un avversario, bene traverso la porta, senza però riuscire a superare né Gava né a servire un compagno meglio piazzato. Ma il ponte Vovano non resta a guardare e dal quarantunesimo trova il pari, con Torè, che riesce a sfondare in aria di rigore e a battere Abate. Passiamo al racconto della seconda frazione, con l'ausilio delle immagini di Flavio Forcellese. Al quarto minuto, brutto infortunio per il secondo assistente enunziata, costretto a lasciare il campo in barella. Il gioco riprende dopo una sosta forzata di dieci minuti, senza la presenza dei due guardalinee, con il direttore di casa Sciubba, che si prende ogni responsabilità in prima persona. La Torrese torna a cercare con insistenza la rete del 2-1, battendo una serie di calci d'angolo, senza esiti benevoli per l'undici di Cristofari. Il ponte Vovano, invece, gioca di rimessa, cercando di sfruttare la velocità di Torè. Proprio gli ospiti si fanno insidiosi al 36esimo, con un corner di Angelo Cernaz, che Abate è costretto, peraltro a fatica, a smalacciare oltre la traversa. Il ponte Vovano inizia a credere nel ribaltone, attaccando con insistenza, e dal 38esimo si fa sorprendere in contropiede con Restanio, che avanza centralmente e serve festa, il cui diagonale viene respinto da Gava, che nulla può sul tapin vincente di Gentile, che riporta in vantaggio i padroni di casa. Al 95esimo Polisena si trova la palla buona per il nuovo pari, ma la sua conclusione viene ribattuta da un difensore. L'azione prosegue e dall'altra parte Gentile sfiora con un pallonetto il 3-1. Dopo 12 minuti di recupero, Sciuba di Pescara fischia la fine, con la Torrese che chiude l'anno conquistando tre punti. Mister Cristofari, una vittoria sofferta al termine di una partita con tante occasioni dall'una e dall'altra parte. Sì, secondo me è stata una partita bellissima, perché ci sono state tante occasioni da gol, abbiamo trovato il vantaggio su un calcio d'angolo. Oggi avevamo diverse assenze lì davanti, ma chi l'ha sostituita l'ha fatto in maniera egregia, è normale che avevamo altre caratteristiche, quindi abbiamo fatto un po' fatica a tenere palla lì davanti, però la squadra ha fatto quello che doveva fare, contro una squadra assolutamente viva, una squadra che sta dimostrando che i punti che ha fatto fino adesso sono punti che vengono da una striscia importante. Quindi sono contento perché ci tenevamo a chiudere l'anno solare con una vittoria importante, adesso ci prendiamo qualche giorno di riposo per poi ripartire sempre più carichi. Piccioni, è arrivata una sconfitta al termine di una gara in cui avete dato del filo da torcere ad una squadra forte come la Torrese. Ripeto, quello che ho detto al suo collega, noi per un'ora abbiamo fatto partita alla pari e forse anche leggermente meglio. Poi dopo l'interruzione c'è stato qualcosa a livello mentale, non siamo ripartiti bene, abbiamo preso subito gol, su un episodio quando meno dubbio, ma l'arbitro è da solo e quindi è difficilissimo poter giudicare da solo. Mi dispiace perché è una partita di eccellenza, essere decisa da un episodio in questa maniera fa male, però ripeto, per un'ora la squadra mi è piaciuta, all'ultimi 20 minuti dopo il gol subito onestamente abbiamo fatto troppa confusione, troppa fenesia di arrivare subito davanti e lì potevamo fare molto molto meglio.